Una bella festa dello sport e dell'amicizia e la sintesi lapidaria della settima edizione del trofeo Festalfa, la tradizionale corsa di ciclismo per atleti in erba che si è tenuta ieri pomeriggio nel cuore del centro storico di Corato. Prova unica di campionato provinciale per le categorie giovanissimi 7-12 anni e organizzata dalla Quarat Bike con la collaborazione di Mimmo Del Vecchio, vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana per il Comitato Bari-Bat e di tanti amanti del ciclismo coratino, ha aperto le attività della rassegna Festalfa Meeting della parrocchia San Domenico, che come da ultra trentennale tradizione dà il via alla ripresa delle iniziative dopo la pausa estiva. Si è corso sul classico circuito di 650 metri tra Piazza Vittorio Emanuele via San Domenico via Aldomoro, blindato al traffico e perfettamente presidiato grazie all'opera della polizia locale e al supporto delle associazioni Misericordia e Ali del Soccorso, senza dimenticare un'ottima dose di buonsenso da parte dei coratini che hanno rispettato alla lettera i divieti apposti. Cento i piccoli atleti al via, divisi in sei gare promiscue in cui ambo i sessi di pari età hanno gareggiato nella stessa batteria, con una lunghezza via via crescente in base all'età, partendo da tre giri sino ad arrivare ai 18 giri della gara più lunga. Per quanto riguarda l'aspetto agonistico, nella G1 ha trionfato Lorenzo Gonnella della Ludo Bike insieme a Marta La Catena della Spess Alberobello. Nella G2 è successo casalingo del figlio d'arte Oscar Carrer del team Eurobike con Alessia Russo della scuola di ciclismo Nibali Salentino. E bella lotta nella categoria G3 con i due trulletti di Alberobello, Antonio Lipolis e Megan Pugliese. Tanta la grinta di Francesco Dell'Olio della Ludo Bike, dominatore con stile della batteria G4 insieme con Silvia Leonetti dell'Andrea Bike. Mentre nella suggestiva e incerta G5 maschile, la vittoria è andata Giuseppe Fornelli della Andrea Bike e festeggia anche la città di Corato con il successo di Mirella Piarulli dell'Eurobike in campo femminile. Tra i più grandi celli della G6, in prossimità del transito nella categoria esordienti, vince il leccese Marco Russo della scuola di ciclismo Nibali Tugliese Salentino, mentre la biceiese Federica Lopopolo della Ludo Bike a chiudere la rassegna con la vittoria femminile. Ben 9 le società al via. Il trofeo Festalfa ha assegnato anche il campionato provinciale giovanissimi per i sodalizi di Bari e Bat. Tra le 9 squadre in concorso ha prevalso la scuola di ciclismo Ludo Bike Biceglie che con il bottino di 68 punti si aggiudica il titolo provinciale. Piazza d'onore per la spessa Alberobello con 55 lunghezze e medaglia di bronzo per l'Andria Bike con 33 punti. Ai piedi del podio la scuola di ciclismo Nibali Tugliese Salentino, la polisportiva Gaetano Cavallaro, il coratino Team Eurobike e in coda la scuola di ciclismo Franco Ballerini Bari, la Cagnano Varano e la Velo Sprint Barletta.